Quando si conosce una persona online, molto spesso ci sono dei problemi di comprensione. Non ci si capisce? È difficile capire veramente che cosa voglia l'altro? È già difficile adesso. Immaginate come era agli inizi di internet, agli inizi dei social. Molte conoscenze online in quegli anni sono sfociate in tragedia. E la storia che vi racconterò oggi è proprio una di quelle. Ciao, belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Per la vicenda di oggi dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, ma neanche tantissimo. Siamo negli ultimi anni del 2000, quando internet non era per niente come lo conosciamo oggi. Specialmente i social, erano molto diversi. Ricordate Netlog? Ecco. Ciò che sto per raccontarvi avviene proprio in quell'epoca in cui, come penso sappiate, non era proprio sicurissimo conoscere persone online. Prima di addentrarci in questa assurda storia però, devo ringraziare infinitamente il mio amato Cambly, che ha reso possibile la realizzazione di questo video. Come ormai dovreste sapere, Cambly è una piattaforma online che permette a tutti, ovunque e quando vogliono, di imparare la lingua inglese. E in occasione del Black Friday, i ragazzi mi hanno dato la possibilità di regalarvi uno sconto enorme del 60% su tutti i piani annuali. Con il mio codice Andrew60, infatti, potrete accedere allo sconto più grande di sempre, grazie al quale potrete fare lezioni a partire da 9,99€ al mese. Un prezzo mai visto che non troverete in nessun altro servizio di questo tipo. Ovviamente si tratta di una promozione valida solo per il mese di novembre, quindi ragazzi approfittatene. Prima di acquistare un piano in ogni caso potete fare una prova di 30 minuti per solo 1€. Imparare l'inglese non è mai stato più semplice e conveniente. All'inizio non è facile imparare la lingua, ma fidatevi, ce la potete fare, perché Cambly vuole darvi una mano. Nella piattaforma, infatti, troverete oltre 10.000 tutor madrelingua, che saranno disponibili per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Grazie a loro potrete prepararvi per qualsiasi occasione, da un colloquio di lavoro a un viaggio o magari un esame. In questo momento, come sapete, io sono in Giappone e non avete idea di quanto mi stia aiutando l'inglese. Anche se qui non lo parlano troppo, si riesce comunque a comunicare. E se non utilizzassi Cambly, probabilmente mi sarei già perso da qualche parte. Ma a parte questo, ragazzi, l'inglese è fondamentale nella vita, specialmente in questi anni. Lo sarà anche negli anni futuri, chiaramente, per cui non perdete questa occasione. Si tratta di un investimento su voi stessi e, fidatevi, vi sarà utilissimo. Devo anche dirvi che Cambly ora dispone di risorse completamente gratuite, come per esempio CAM AI, un'intelligenza artificiale con cui si possono simulare delle conversazioni in inglese, oppure i booklet gratuiti per imparare vocabolario e grammatica, o ancora esercizi per poter consolidare la vostra conoscenza dell'inglese. Per accedere a tutte queste risorse gratuite, ciò che dovete fare è accedere a Cambly e creare un account. Vi ricordo invece che, per i piani annuali, in occasione del Black Friday, avrete 60% di sconto usando il mio codice. È davvero, ragazzi, un'occasione da non perdere. Trovate il link a Cambly e il mio codice qui sotto nella descrizione e nel commento pinnato. Ringrazio ancora Cambly per aver sponsorizzato questo video e per avermi aiutato anche in questo viaggio e ringrazio voi per l'attenzione. Detto questo, possiamo cominciare con il file di oggi. Per parlarvi del caso di Farmville, dobbiamo partire parlando di un ragazzo molto, molto particolare. Richard Alden Samuel McCroskey III Che chiameremo semplicemente Richard. Richard nasce il 26 dicembre 1988. A 20 anni, al momento delle vicende, e fa sia il graphic designer che il rapper amatoriale di un genere chiamato horrorcore, ovvero un sottogenere del rap che tratta tematiche, possiamo dire, macabre e che fanno spesso riferimento a temi caratteristici dei film horror. Richard vive a Castro Valley, in California, insieme a suo padre e sua sorella di 21 anni. Non sappiamo molto della sua infanzia, ma sappiamo che durante l'adolescenza ha passato dei periodi davvero terribili. Il ragazzo, infatti, veniva spesso bullizzato dai suoi coetanei, dai suoi compagni di scuola e veniva bullizzato per via dei suoi capelli rossi e per via del suo fisico abbastanza robusto. Caratteristiche del tutto normali, ma sapete che gli adolescenti ogni tanto possono essere davvero cattivi. Ad ogni modo, Richard soffre molto di questa cosa e la prende molto male. Diventa sempre più timido, comincia a non uscire più, non impara come relazionarsi col mondo esterno e sta troppo tempo, per conto suo, in casa. Questo lo porta a sviluppare una sorta di personalità alternativa, diversa da quella che aveva sempre avuto. Mi spiego. Richard, di persona, non ha contatti quasi con nessuno. Si sente diverso, non apprezzato. I suoi genitori li vogliono bene, ma nella vita di tutti i giorni, fuori dalle mura domestiche, è isolato da tutto e da tutti. Perciò, con l'arrivo di internet, sente che può finalmente sfogarsi e mostrare un lato di sé che nella realtà non avrebbe mai potuto mostrare. Su internet non si sente così tanto incompreso e isolato. Anzi. Il ragazzo comincia a passare sempre più tempo al computer, il che lo rende piuttosto bravo, tanto che in futuro comincerà anche a lavorarci al computer. Intanto comunque negli anni del liceo si iscrive ad un social che in quel periodo stava andando tantissimo e che invece adesso è praticamente morto, ovvero MySpace. Scrivetemi nei commenti se voi ce l'avevate, perché io ero ancora troppo piccolo, quindi non ho esperienza diretta di questo social. Ma vabbè. Richard si crea un profilo e decide di farsi chiamare in due modi. O Lil Demon Dog, piccolo cane demone, oppure Psycho Sam, che si pronuncia allo stesso modo di Psycho, cioè con la P. Lui si faceva chiamare Psycho Sam senza la P, però si pronuncia allo stesso modo di Psycho con la P davanti. Quindi Sam psicopatico. Sono dei nickname molto particolari, ma perché è lo stesso Richard ad essere molto particolare. Infatti il suo profilo MySpace diventa la sua vera valvola di sfogo in un mondo che non lo considera. Comincia a condividere contenuti per mostrare a tutti cosa gli piace, ovvero l'horror. Ma non solo ragazzi, perché non c'è niente di strano nell'essere appassionati al genere horror. Io lo sono e immagino che anche molti di voi lo siano. Il punto in questo caso è che la situazione sembra problematica. Perché Richard comincia ad esagerare. Ci si appassiona in modo morboso, direi che la sua diventa un'ossessione. Nel suo profilo infatti comincia a condividere molti disegni legati al genere horrorcore e pubblica dei testi osceni di alcune sue ipotetiche canzoni. In questi testi ci sono descrizioni dettagliate di mutilazioni, cannibalismo e omicidi violenti. A vederlo dall'esterno Richard sembra un ragazzo normale, molto timido e impacciato, ma online si mostra come un amante del gore, del ripugnante e della violenza. Dice anche che il suo idolo è il serial killer David Berkovitz, un uomo che negli anni 70 ha commesso vari omicidi a New York. Insomma le sue passioni sono molto particolari e abbastanza discutibili. Ah e oltre a tutto questo a volte pubblicava anche delle foto davvero orribili, tipo in alcuni scatti lo possiamo vedere seduto su una lapide, mentre in altri è sempre al cimitero con un coltello oppure con una cetta in mano. In altre foto invece si fa vedere armato con indosso una bandana davanti ad una chiesa gotica. Come se a modo suo si stasse prendendo una rivincita verso il mondo, un mondo che secondo lui lo odiava e quindi lui a sua volta odiava il mondo. Quello di MySpace non è solo un periodo di trasgressione, è un vero e proprio atto di ribellione, perché facendo così avrebbe fatto capire a tutti che era una persona forte, temibile, di cui bisognava avere paura. Una persona che non si doveva prendere in giro perché altrimenti sarebbe finita male. Così facendo il giovane Richard comincia a calarsi sempre di più nel personaggio. Inizia a fregarsene delle regole, della morale e del buonsenso. Questa sua nuova personalità online, creata da zero, ha sempre più influenza su di lui. Arriva addirittura a scrivere di sentire delle voci nella testa, che lo portano a pensare di uccidere qualcuno. In realtà non sente davvero delle voci, il suo è solo un modo per spaventare e farsi vedere come un tipo oscuro e tenebroso. Le sue voci nella testa non sono altro che un modo per descrivere il suo lato vendicativo, il suo desiderio di rivalsa, il suo desiderio di fare del male. Questo in breve era Richard, un ragazzo sicuramente tormentato sotto molti punti di vista, ossessionato da tantissime cose a dir poco discutibili che però nel mondo del web trovano un loro spazio, una cerchia di appassionati, una cosa che ora chiamiamo community. Richard quindi ottiene un piccolo seguito. Effettivamente il suo modo di fare attira gente come lui, gente con interessi un po' macabri e con gli stessi gusti musicali. E con una di queste persone comincia a parlarci in maniera intensa e continuativa. Questa persona si chiama Emma Niederbrock, il cui nickname su MySpace è Ragdoll, bambola di pezza. I due parlano un po', cominciano a conoscersi e il ragazzo diciamo ci si affeziona subito molto in fretta, anzi direi che ha proprio una cotta per lei. Questa ragazza gli piace davvero anche perché era l'unica che fino a quel momento in tutta la sua vita gli aveva mai mostrato dell'interesse. Quindi dopo un po' di tempo che si sentivano, lui comincia a dedicarle dei video. Nel primo o nei primi si riprende nella sua camera da letto, spesso buia, e le dice cose in realtà molto innocenti tipo, ehi sono io, guarda mi hai detto di dire questa cosa quindi te la dico, cose così. Niente di particolare, ma in questi video si può notare benissimo quanto lui in realtà fosse imbarazzato. Si nota proprio che lui si stava sforzando molto per apparire in un certo modo, il risultato non è stato dei migliori, comunque Richard era piuttosto impacciato. Anche dietro la videocamera. Non penso di potervi mettere i video completi ma probabilmente vi metterò degli spezzoni senza audio così vi fate bene o male un'idea. In un video successivo Richard fa vedere ad Emma una ripresa completa della sua cameretta, mostra delle bibite energetiche ovunque, una collezione di cd, una peritetta pezzata di poster di cantanti e alcune cose molto disturbanti come la sua accetta, che evidentemente era la sua arma preferita. Il video termina poco dopo perché la batteria gli si scarica ma da questo momento in poi, paradossalmente, l'interazione tra Emma e Richard aumenta. Si vogliono vedere, si piacciono tantissimo e penso quindi sia arrivato il momento di parlare anche di lei. Emma ha 16 anni e vive a Farmville in Virginia insieme a suo padre Mark e sua madre Debra. Suo padre è un pastore di una chiesa presbiteriana a Hicksburg, nel nord della contea di Appomattox. Mai sentito questo nome ragazzi? Non lo so. Esiste, giuro. Mentre la madre, Debra, è una professoressa di sociologia e studi sulla giustizia penale alla Longwood University. Molti suoi studenti sono diventati persone di successo e in generale lei è una donna molto apprezzata e anche molto stimata nel suo campo. Purtroppo però il matrimonio con Mark a quell'epoca era già finito e Emma si è ritrovata con i genitori separati. Da piccola è sempre stata una ragazzina dolce, disponibile, ma una volta cresciuta al liceo comincia a sviluppare una personalità ribelle. E come Richard inizia ad ascoltare le canzoni rap, horrorcore. Anche per lei questa non è solo una fase, ma una vera rinascita, o meglio una sorta di esplosione della sua personalità. Ma a differenza di Richard, a Emma non fregava nulla del giudizio altrui. Si mostrava il mondo così com'era, senza filtri. Non per apparire in un certo modo. Durante l'adolescenza infatti comincia a tingersi i capelli e a vestirsi con uno stile diciamo in linea con la musica che ascoltava. Di conseguenza si circonda anche di amici, sia online che nella vita reale, che hanno le sue stesse passioni. Non è chiaro il motivo per cui si sia interessata a questo stile di vita. Forse tutto deriva dal divorzio dei suoi, ma suo padre e sua madre, seppur divorziati, mantengono un buon rapporto e rimangono presenti nella sua vita. Emma nel 2009 vive con sua madre, con cui almeno dalle fonti che ho trovato online non sembrano esserci conflitti o incomprensioni. Certo, entrambi i suoi genitori pensano che quella di Emma sia solo una fase, ma a parte questo non sembrano esserci litigi o cose del genere. Tuttavia, pian piano, cominciano a nascere delle tensioni in famiglia sempre a causa delle passioni di loro figlia. Come Richard, anche lei adorava l'horror, il sangue e la morte, ma in maniera viscerale e decisamente preoccupante. Anche per questo madre, padre e figlia decidono di andare in terapia insieme. Ed è durante questa fase che Emma incontra e conosce quella che diventerà la sua migliore amica, la 18enne Melanie West, altra figura chiave di questa storia. Melanie, come Richard ed Emma, è appassionata del genere horrorcore e il suo nome d'arte online è Razakal, che non so che cosa voglia dire. Emma e Melanie poi hanno tantissime cose in comune. Al di là dei gusti per la musica, entrambe adorano la fotografia, il make-up e le acconciature per i capelli. Pensate che entrambi i loro padri sono pastori di una comunità presbiteriana, cioè sembrano veramente sorelle separate alla nascita e abitano anche abbastanza vicino, per cui spesso si vedono dal vivo una a casa dell'altra. Ovviamente anche i genitori di Emma conoscono Melanie e le due in questo modo diventano molto affiatate, molto in fretta. Intanto online Emma e Richard chattano e si divertono. In poco tempo legano veramente tanto e posso dire con assoluta tranquillità che arrivano addirittura a volersi bene a modo loro. Hanno molte cose in comune come l'interesse per le droghe, l'alcol, le sigarette, la passione per i cimiteri e i morti, il gore, i sangue e cose così. E molto presto, grazie ai loro interessi, riusciranno ad incontrarsi tutti e tre dal vivo, Melanie compresa, ma non andrà a finire come immaginavano. Richard e Emma passano sempre più tempo a messaggiare e scambiarsi foto e video, tra l'altro con la tecnologia di 15 anni fa, quindi non era proprio comodissimo diciamo. Ciò denota un grande interesse tra i due, o meglio in quel periodo Richard è follemente attratto da Emma, le manda foto, le scrive cose un po' spinte ma anche cose molto romantiche, molto dolci e inizia a considerarla effettivamente come la sua ragazza online. Emma, d'altro canto, prende questa storia un po' più alla leggera, ovvero le piace il rapporto con Richard, anche lei fa la sua parte nelle loro conversazioni piccanti o romantiche, ma lo fa più per divertirsi che per reale interesse. Il problema nasce dal fatto che Emma non è che dice proprio le cose come stanno a Richard, non esplicita le sue intenzioni con lui e di conseguenza lo illude. Un tema attualissimo ragazzi, succede davvero spesso nelle relazioni online, anche perché per messaggio non è facile far capire le proprie reali intenzioni, molte persone si illudono e molte altre illudono anche inconsciamente magari. Forse per Emma è stata una cosa inconscia, per lei probabilmente era scontato che lui capisse che stava solo giocando, ma dato che Richard era sempre stato solo, non aveva mai avuto gli strumenti per capire le mille sfaccettature di un discorso o in generale delle interazioni sociali. Lei era la prima ragazza che gli dava attenzioni, per cui lui specialmente si prende tantissimo, comincia davvero a considerarla la sua ragazza, mentre lei evidentemente no. Ovviamente ne parla di Richard, ne parla anche con la sua migliore amica Melanie, ma non le dice mai che è il suo fidanzato, il che fa capire molte cose dato che si confidava spesso con lei e non le avrebbe mai mentito, non le avrebbe mai tenuto nascosta una relazione con qualcuno. In sostanza Emma non si considerava la fidanzata di Richard. Ed è proprio questo il problema più grande, perché a questo punto Richard, che considera Emma come la sua fidanzata, vuole vederla a tutti i costi. Non gli basta più scriverle con le mail o su MySpace. Ormai la loro conoscenza online va avanti da oltre un anno e pensa sia giunto il momento di arrivare a qualcosa di più serio, giustamente. Quindi tutto il trio, Richard, Emma e Melanie, si mette d'accordo per vedersi, tutti insieme. Scelgono di incontrarsi ad un evento a cui volevano tutti e tre partecipare, un evento legato ai loro gusti musicali. Questo evento si trovava a Southgate, nel Michigan, e si chiamava Strictly for the Wicked. Era una sorta di festival di musica rap horrorcore in cui si sono esibiti vari artisti di quel genere. E tutti e tre non vedevano l'ora di andarci, veramente. Però c'era solo un problema. Ovvero erano troppo giovani nel 2009. Veramente troppo. Tuttavia, qui, entrano in gioco i genitori di Emma che in un certo senso fanno la differenza. Praticamente, Emma aveva da tempo cominciato a peggiorare, scrivendo persino delle frasi inquietantissime nei muri di camera sua. Quindi i suoi genitori non volevano che andasse da sola con degli sconosciuti a questo festival di musica horrorcore. Quindi cosa decidono di fare? Decidono di conoscere meglio i suoi amici, ovvero Richard, Edè e Melanie, e di organizzare la loro serata in questo modo. I genitori di Emma avrebbero accompagnato tutti loro al festival sia all'andata che al ritorno. E una volta terminato l'evento, avrebbero portato tutti in casa di Emma per la notte. L'indomani, ognuno sarebbe stato libero di fare ciò che voleva. Molto semplice, no? Ecco. I genitori di Emma volevano che la loro figlia stesse a sicuro, così decidono di mantenere comunque un po' di controllo, almeno quanto bastava per assicurarsi che lei e i suoi amici stessero bene. Questa organizzazione mette d'accordo tutti. Richard è eccitatissimo all'idea del festival e soprattutto di vedere la sua fidanzata virtuale dal vivo. In realtà, anche Emma è molto felice. E addirittura pubblica un lungo post su MySpace in cui scrive di essere impaziente di vedere il suo fidanzato, ovvero Richard. Molto strano, perché solo a questo punto lo chiama così, ma non l'aveva mai considerato tale. Veramente strano. Comunque, l'incontro in realtà non avviene proprio il giorno del festival, ma un po' prima. Il 7 settembre 2009, Richard prende un volo e va finalmente a Farmville, dove abita appunto Emma. E qui, l'incontro tra i due si rivela più problematico del previsto. Emma, una volta visto fisicamente e realmente il suo fidanzato virtuale, ci rimane male. Ed ha fastidio la sua timidezza e anche il suo aspetto fisico non è che proprio era di suo gradimento. Insomma, non era proprio come se l'era immaginato. E in pochissimo tempo capisce che dal vivo Richard non le piace. I due però sono costretti a passare qualche giorno insieme in attesa del festival, ed è inutile dirvi che durante queste giornate l'atmosfera tra i due è a dir poco imbarazzante. Sono entrambi carichi di tensione, una tensione che Richard avverte sempre di più dentro di sé, ma che spera di nascondere. E così, in questo modo un po' imbarazzante, passano dei giorni e arriva il 12 settembre. Dopo un viaggio in macchina di circa 10 ore insieme ai genitori di Emma, tutti e tre i ragazzi arrivano lì a festeggiare. La serata però prende una brutta piega, più che altro per Richard, già imbarazzato e afflitto per il rapporto tiepido che c'era tra di lui e la sua apparente fidanzata. Non sappiamo con certezza cosa sia successo in quelle ore, ma ci sono molte voci a riguardo. Alcuni dicono che durante il concerto Emma abbia cercato di allontanare Richard molte volte dopo una breve litigata. Si dice che la ragazza si sia messa a flirtare con un altro ragazzo e che un altro ancora, uno sconosciuto, le abbia scritto dei messaggi provocanti. Una cosa è certa, da quell'evento in poi il rapporto tra i due si deteriora irrimediabilmente. Melanie semplicemente si gode la serata, ma nota anche lei qualcosa che non va. Richard si sente frustrato, tradito e arrabbiato. Per la prima volta in vita sua aveva conosciuto una ragazza e pensava davvero che sarebbe andato tutto bene. Si era preso per lei. Lei non l'aveva apertamente rifiutato ed era quindi convinto di avere una fidanzata. Ma dopo quella sera realizza di essersi solo illuso. Anzi comincia a credere che lei lo abbia illuso. Emma in effetti vedendo che Richard non era proprio come se lo immaginava lo aveva un po' messo da parte. Lo aveva ignorato. E questo lui non poteva sopportarlo, specialmente dopo tutti gli anni in cui aveva subito isolamento e bullismo da parte dei suoi coetanei. Per lui è troppo. E ciò che prima si poteva definire una cotta si trasforma velocemente in odio. In generale Richard come sapete odiava tutto e tutti. Pensava che la vita non avesse senso e che il mondo facesse schifo esattamente come sentiva nelle canzoni che ascoltava e che adorava tanto. Quindi questo ulteriore colpo al cuore, questi comportamenti che lui ha percepito come tradimenti sono la goccia che fa traboccare il vaso. Per lui a questo punto c'è solo una cosa da fare. Vendicarsi. Ancora una volta tiene tutto dentro ma solo per poco. Perché prima o poi sarebbe irrimediabilmente esploso. Il giorno dopo, alle prime ore del mattino, il festival finisce e tornano tutti a casa della mamma di Emma. La notte passa tranquilla. O almeno così tutti credono. Nelle prime ore del mattino, sia Emma che Melanie scrivono su MySpace le loro impressioni sulla notte precedente. Il sole poi sorge e per tutto il giorno, il 13 settembre, la situazione rimane stabile. O meglio, da quella casa non si hanno notizie. Poi il 14 settembre, alle ore 2.42, Melanie scrive un post online in cui dice che sarebbe tornata a casa sua il 16 settembre, ma i suoi genitori non ricevono notizie. Anzi, all'improvviso, da un giorno all'altro, non c'è più traccia né di Emma, né di Melanie, né della signora Debra, la mamma di Emma. È tutto troppo strano. I genitori di Melanie riescono però a contattare per ben due volte Richard, che dà loro delle giustificazioni, delle scuse palesi, delle versioni dei fatti diverse e discordanti. Quindi i genitori di Melanie contattano disperati le autorità e qualche gente fa visita in quella casa, ma non trovano nulla di sospetto. Allora ancora più disperati chiamano il padre di Emma, Mark, il sacerdote, e lui se ricordate non abitava più nella stessa casa di Emma e Debra per via del divorzio. Ecco, spinto anche lui dalla preoccupazione dopo aver sentito i genitori di Melanie, decide di andare a controllare, dare un'occhiata per vedere se stessero bene, ma una volta arrivato lì smette di comunicare con chiunque, sparisce nel nulla. Allora, completamente sconvolti, i genitori di Melanie chiamano di nuovo la polizia. Nella telefonata al 911, l'operatore spiega che effettivamente gli agenti erano andati in quella casa e che un giovane, ovvero Richard, aveva detto loro che le ragazze erano andate al cinema a Richmond. Aveva anche raccontato altri particolari palesemente inventati, a cui però non si poteva contestare nulla, non in quel momento almeno. Eppure l'operatrice al 911 non rimane indifferente, capisce che c'è qualcosa che non va. La madre di Melanie le racconta che non sente sua figlia e la sua amica da giorni e dice anche che persino il padre di Emma, Mark, che aveva sentito poche ore prima, era scomparso nel nulla. Spiega all'operatrice che la situazione è fin troppo sospetta e bisognava quantomeno capire cosa stava succedendo. Nessuno risponde più alle chiamate, solo Richard sembra essere ancora lì e racconta delle cose molto strane. È ovvio che sappia qualcosa di più ed è ovvio che non vuole dire la verità. La situazione è davvero ambigua. Tutte queste sparizioni, Richard da giorni solo in una casa che non è la sua, cioè immaginate, è davvero stranissimo. La madre di Melanie quindi in panico si mette di nuovo in contatto con Richard. Lui le dice che le ragazze non potevano rispondere al telefono, per qualche motivo, e quindi la donna pretende chiarimenti. Pensa che Melanie non avrebbe mai scritto un semplice post su internet per avvisare i genitori del suo ritorno qualche giorno dopo. Avrebbe chiamato a casa e poi pensa, Mark? Che fine ha fatto? A questo punto nonostante tutto la polizia non può insistere più di tanto. Quindi ci pensa sempre la madre di Melanie ad intervenire. Chiama di nuovo Richard e lo obbliga a chiamare la polizia e darle il permesso di perquisire la casa. E sorprendentemente il ragazzo accetta, chiama gli agenti e dice loro di sentire degli strani rumori provenire dal seminterrato. Ovviamente è una bugia, una scusa per fargli andare lì. La sua voce nella telefonata è sempre spezzata dal suo modo impacciato di parlare, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. Sembra davvero spaventato. Ad ogni modo gli agenti arrivano, vanno nel seminterrato, fanno qualche domanda al ragazzo e finisce lì. Niente di sospetto, niente di insolito e se ne vanno via come se nulla fosse. Il che ragazzi è allucinante perché solo il giorno dopo i vicini lamentano una terribile puzza di putrefazione provenire da quella casa. Non ci fanno troppo caso però e non chiamano nessuno, ma sentono una puzza veramente molto fastidiosa. Pensano però che si tratti semplicemente di qualche animale morto, niente di che, non si allarmano più di tanto e arriviamo così al 17 settembre 2009. Richard è ancora lì in quella casa da solo. Quel giorno chiama la sua famiglia e alla chiamata risponde sua sorella e lui dice solo vi voglio bene e basta. Chiude il telefono. Il 18 settembre 2009 la madre di Melanie continua giustamente ad insistere con la polizia e dopo del tempo altri agenti vanno a perquisire la casa. Questa volta però finalmente lo fanno davvero. Cioè si mettono davvero a controllare tutto. Anche perché l'odore in quel posto era disgustoso. Anzi è davvero strano che le prime volte nessuno l'avesse sentito o comunque nessuno avesse indagato più di tanto. Cioè sono entrati, hanno fatto due domande, hanno visto due cose e se ne sono andati. No. Erano sparite dalle persone. È assurdo veramente. Comunque. Gli agenti adesso non perdono tempo finalmente e scoprono subito la fonte di quella puzza così forte. Quello che trovano in quella casa li lascia a bocca aperta. Gli agenti descrivono la scena come un mattatoio. Sangue e disordine ovunque ed è allucinante che gli altri agenti non se ne fossero accorti veramente. Comunque nonostante tutto Richard in casa non c'è più. Non c'è nessuno lì. Almeno nessuno di vivo. Gli agenti trovano tre corpi brutalmente assinati nella camera da letto al piano terra della casa. Trovano anche un quarto corpo senza vita nella camera da letto al piano di sopra. Le vittime ad un primo sguardo sono irriconoscibili a causa delle ferite e anche a causa dell'avanzato stadio di decomposizione. Vengono però identificate in fretta. Sono Melanie, Emma ed entrambi i genitori di Emma, Mark e Debra. È stata compiuta una strage ragazzi e ancora non capisco come abbiano fatto gli altri agenti a non accorgersene quando erano stati in quella casa giorni prima. Comunque meglio tardi che mai. Melanie, Emma ed Debra sono state picchiate a morte senza pietà nei loro letti mentre dormivano. E sulla scena sono state trovate diverse armi del delitto. Ma gli esperti capiscono che la maggior parte di queste in realtà non era stata usata o era stata usata poco rispetto a quella principale. Un'ascia di legno che l'assassino aveva trovato dentro un capanno degli attrezzi. Mark, il padre di Emma, è stato l'ultimo a morire ed è stato preso alla sprovvista alle spalle mentre entrava in casa. È stato preso di mira in maniera così tanto feroce e accanita che il pavimento sotto di lui era quasi distrutto e era ricoperto di sangue. Nessuna delle vittime ha lottato prima di morire perché nessuna di loro ha avuto il tempo di farlo. Il colpevole le ha uccise nel sonno e Mark è stato vittima di un'imboscata e non ha avuto il tempo neanche di capire cosa stava accadendo. In poche parole, una carneficina. Ecco perché quella puzza è insopportabile, perché c'erano quattro corpi in casa che si stavano decomponendo. In tutto ciò vi starete sicuramente chiedendo dove è finito Richard. Ecco, al momento del ritrovamento, come già vi ho detto, non era in casa, ma dovete tenere in conto che era stato giorni interi dentro l'abitazione insieme ai cadaveri. Anzi per la precisione insieme a prima tre corpi e poi quattro. Giorni in cui era circondato da cadaveri, circondato da sangue e una puzza orribile, tanto che i suoi vestiti e la sua pelle hanno assorbito quell'odore nauseabondo e ha iniziato anche lui a puzzare di putrefazione, perché in quei giorni non si è neanche fatto una doccia. Sinceramente non ho idea di come abbia fatto a fare tutto ciò e questo probabilmente la dice lunga sulle sue condizioni mentali. Subito dopo il ritrovamento, la polizia comincia alle ricerche per trovare Richard. A questo punto, come potete immaginare, è il sospettato numero uno e scoprono in fretta che il ragazzo aveva rubato l'auto di Mark, l'ultima vittima, e aveva fatto un incidente. Ma sentite questa cosa. Praticamente la gente che lo ha beccato, non sapendo nulla della strage di Farmville, gli dà una sorta di sanzione per guida senza patente, poi gli chiama il carroattrezzi e lo lascia andare. Se solo avesse saputo avrebbe potuto arrestarlo. Ma niente, Richard, in quel momento, viene accompagnato dal carroattrezzi in un luogo non specificato. E ragazzi, aveva addosso un odore davvero nauseante, tanto che il guidatore del carroattrezzi deve abbassare il finestrino per respirare un po'. Durante questo breve viaggio i due parlano del più o del meno. Ovviamente anche lui è ignaro del fatto che sta trasportando un assassino, ma nota che nel collo di Richard ci sono come dei segni di escoriazioni, come se avesse dei succhiotti, possiamo dire. Richard dice all'uomo del carroattrezzi che glieli aveva fatti la sua ragazza e che l'auto distrutta apparteneva al padre di lei. L'uomo non si fa troppe domande e dopo un po' lascia Richard nei pressi di un minimarket. Le telecamere del negozio lo riprendono in pieno volto e dopo aver acquistato qualcosa, il ragazzo chiama un taxi e si fa portare all'aeroporto internazionale di Richmond. Ma ecco che succede un'altra cosa strana. Il taxi viene fermato da uno volante della polizia per eccesso di velocità, quindi Richard esce e fuma una sigaretta come se niente fosse mentre il tassista discute con l'agente. E anche questo agente ignora totalmente Richard, evidentemente anche lui era ancora ignaro della strage. Intanto comunque Andres Schrimm, che sarebbe il fidanzato di Melanie, chiama la polizia. Anche lui è nel giro degli amanti del genere horrorcore e racconta alla polizia dei suoi dubbi su Richard. Parla del fatto che avesse diverse pattugne mentali negli ultimi giorni e dice che forse, aveva ucciso qualcuno. Gli investigatori capiscono che Richard c'entra sicuramente qualcosa con la strage di Farmville per cui prendono una delle sue foto di MySpace e la diffondono in giro con la speranza che qualcuno sapesse dov'era. E per fortuna non ci mettono molto a trovarlo. Lo trovano addormentato con un cappotto avvolto intorno a sé nell'area dei ritiro bagagli dell'aeroporto di Richmond. Ora, finalmente, gli agenti possono ascoltare la sua versione dei fatti. All'interrogatorio Richard si dimostra estremamente provato dalla situazione. Non oppone alcuna resistenza e non cerca neanche di mentire. Anzi, è proprio sconfitto direi. Infatti, per fare un esempio, sulla scena del crimine aveva lasciato degli indizi sui suoi spostamenti. Aveva scritto su un fogliato nascosto che sarebbe andato in quell'aeroporto per tornare in California. Era come se sperasse che qualcuno lo arrestasse, lo trovasse. Infatti, è quello che succede. E lui, a questo punto, è quasi sollevato. Tuttavia, il ragazzo diventa molto strano in questa fase della vicenda. Come sapete, è sudicio, non si lava da giorni e ha ancora i vestiti sporchi di sangue. All'interrogatorio confessa molte cose particolari. Innanzitutto, racconta di tutto il suo passato con Emma e dice che la notte del delitto aveva assunto delle sostanze, bevuto birra e preso degli antidolorifici. Da lì, è completamente impazzito e ha ucciso una ad una. Tutte le donne presenti nella casa. E nessuno ha sentito niente quella notte. Dopo la strage, dice di aver aspettato lì per giorni da solo. All'arrivo di Mark, ha tolto la vita anche a lui perché non era ancora pronto ad accettare ciò che aveva fatto. E dopo il suo ultimo brutale omicidio, è come se si fosse spento qualcosa in lui. O almeno lui dice così. Tutto quel tempo passato tra i cadaveri e la sporcizia lo aveva fatto riflettere. Aveva capito solo in quel momento che l'omicidio non è come nelle canzoni che ascoltava, ma è molto peggio. Era infuriato per il rifiuto di Emma e per il modo in cui lo aveva trattato al concerto. Non sopportava che ancora qualcuno lo escludesse dalla sua vita. In sostanza non aveva mai capito una cosa fondamentale in tutta questa vicenda. Ovvero che Emma in realtà non voleva stare con lui. Cioè non so se non lo avesse proprio capito o semplicemente non voleva accettarlo. Fatto sta che si era illuso. A lei piaceva la loro intesa virtuale. Sì, ma doveva finire lì. Tra l'altro nei giorni passati in casa dopo gli omicidi Richard ha registrato un video semplicemente agghiacciante in cui spiega ciò che ha fatto, ammette le sue colpe e manda letteralmente a fanculo il mondo. Dice, annuncia che si sarebbe tolto la vita in sostanza, ma poi alla fine non lo fa. Quei giorni per lui saranno stati un tormento emotivo enorme. Giorni in cui ha lottato contro se stesso fino a diventare apatico. La saggia che ha compiuto è stata uno sfogo di rabbia, una frustrazione immensa accumulata in anni e anni. Aveva tenuto talmente tante cose dentro che semplicemente è esploso. Gli ci ha voluto molto tempo per capire di aver fatto la peggiore cazzata della sua vita. Una follia che non gli darà mai pace e che nessuno mai gli perdonerà. Ed è triste da dire, ma non chiede neanche scusa. Semplicemente accetta ciò che ha fatto ed è pronto a subirne le conseguenze. Viene quindi portato al processo. Come immaginate, le prove contro di lui sono tantissime. Neanche l'avvocato più bravo del mondo potrebbe difenderlo. Intanto la sua vita online viene bloccata, cancellata. Ogni cosa che aveva fatto per darsi un'identità si distrugge in poco tempo. E così alla fine il 20 settembre 2010, Richard Alden Samuel McCroskey si dichiara colpevole dei quattro uccidi, pur rischiando la pena di morte e viene condannato all'ergastolo. Ancora oggi è vivo e si trova nella prigione statale di Wallens Ridge a Big Stone Gap in Virginia e ci resterà per sempre. Arrivati a questo punto mi sento di dirvi che la vita online e quella reale sono ovviamente diverse, ma sempre ovviamente possono coesistere. E la trasparenza ripaga sempre, mentre il mentire, il giocare sporco, l'illudere, può davvero fare del male. E vabbè, in questo caso è stato Richard il problema, si è fatto delle aspettative troppo alte e ha avuto una reazione sconsiderata quando queste aspettative non sono state raggiunte. Era molto comune all'epoca fra intendersi in chat. Lo è ancora oggi, ma per fortuna ci stiamo abituando. E ok, qui chiaramente il problema non sono le incomprensioni delle chat, ma le condizioni mentali di Richard. Qualunque persona deviata come lui andrebbe aiutata e andrebbe aiutata in fretta, perché potrebbe commettere cose atroci come quella che vi ho raccontato oggi. Forse se Richard avesse avuto i giusti strumenti e le persone giuste al suo fianco, non avremmo avuto il bisogno di raccontare la sua storia. Ora, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una strana leggenda che ha terrorizzato generazioni e generazioni di persone. Quindi spero che rimarrete nei paraggi. Per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!